Cappuccino Giampiero, io ho finito la mia birretta, adesso un cappuccino ci sta, anche tu hai finito la mia, ho finito anche la mia, per festeggiare questa fine del giro dell'andata delle donne, che non è andata benissimo, non è andata benissimo, però, sapevamo molto duro contro Luca, non è più forte, si sono salite con l'ora l'anno scorso dalla 2 alla 1, Abbiamo accettato il risultato a tre pari di nuovo, assolutamente abbiamo un incontro decisivo, qui è l'ultima in classifica, ma forse classifica però a questi tre stranieri che purtroppo sono tutti e tre infortunati e auguriamo loro, diremmo le infortunati, ancora soltanto fino a lunedì, poi da lunedì, pronta guarigione, vincono tutti i tornei a manetta, tutti i tornei, magari no, ma poi ci ragionano, la race è solo uno, diciamo, Grazie a tutti